ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi a bordo della mia kia sportage una vecchia macchina del 2005 allora oggi voglio farvi vedere come ho montato il nuovo stereo a toto a6 rimuovendo il mio vecchio sistema il mio stereo doppio din della pioneer che non mi ha mai soddisfatto poche prestazioni poche funzioni tutto quello che si vuole aggiungere a pagamento dai cavetti insomma non sono rimasto contentissimo quindi diciamo l'ho messo pure in vendita per un periodo è il mio secondo stereo questo a doppio din prima c'era quello originale poi ne ho preso uno cinese che mamma mia però aveva il navigatore questo invece no e oggi vi faccio vedere questo che mi è stato inviato apposta dall'azienda e che già dalle prime prove ragazzi mi ha lasciato a bocca aperta perché è un sistema android praticamente un computer all'interno della macchina che si sente bene finalmente con un buon audio a diverse funzioni anche la retrocamera la possibilità di vedere video un vero e proprio computer con il sistema operativo android nel cruscotto della nostra macchina che ci permette di utilizzarlo come navigatore satellitare come viva voce insomma tante tante funzioni adesso vi farò vedere qualcosina ovviamente vi farò vedere pure alcune riprese durante il montaggio eccetera ho fatto alcuni adattamenti perché anche in questo caso come vedete su questa ci sono delle modifiche fatte con la smerigliatrice perché non riuscivo a montarla anche su questo ho fatto qualche piccola modifica forse sbaglio io non lo so però alla fine sono riuscito a montarla senza problemi e tra l'altro non vi farò vedere alcune riprese durante l'utilizzo della macchina quindi marcia perché sono con la revisione scaduta a proposito sapete cosa devo fare per fare una revisione con la revisione scaduta cioè devo raggiungere l'officina come ci vado con carattrezzi posso prenotare se lo sapete scrivetemelo nei commenti io chiamerò comunque l'officina mi informerò ma mi pare che prenotando si possa raggiungere tra l'altro è a 500 metri comunque fatemi sapere voi nei commenti allora guardiamo quindi questo a toto a6 parliamo anche di prezzi ci sono diversi modelli ci sono modelli con prestazioni maggiori con display più grande con display più piccola eccetera diciamo che comunque prezzi oscillano attorno a 250 euro poi ce ne sono di più cari di più economici guardate il link nel primo commento nella descrizione se riesco vi darò anche il codice di sconto tra l'altro mi hanno mandato anche questa retro camere già primo collegamento semplicissimo si può utilizzare anche il biadesivo e basta adesso vi faccio vedere le riprese che ho fatto durante lo smontaggio il montaggio eccetera eventualmente commenterò qualcosina e poi passiamo direttamente alle riprese di questo fantastico impianto per me è eccezionale quindi cambiamo inquadratura e iniziamo e allora guardiamo innanzitutto quello che abbiamo qua sul sedile a parte il disordine il mio fido zaino della night core il nostro stereo montato ciao ragazzi adesso lo vedremo da acceso anzi giriamo subito il quadro così vedrete all'accensione ok questo è il benvenuto la schermata e benvenuto dello stereo ma spostiamoci e vediamo questa scatola è all'interno della scatola più grande la scatola che contiene quindi il nostro impianto il nostro a toto a6 questo che vedete qua è intanto il biadesivo per la retrocamera con le viti per poterla fissare poi troviamo ovviamente tutti i manuali di istruzioni troviamo anche alcuni adattatori per poter collegare l'impianto nel modo corretto vengono forniti diversi accessori e anche diversi collegamenti quindi questi pin con questi spinotti in base all'impianto presente sulla macchina io ho utilizzato uno di quelli presenti che è andato benissimo poi ovviamente anche un'antenna gps e io però non utilizzerò perché sfrutterò quella che già utilizzavo nel primo stereo di cui vi ho parlato quindi quello cinese che aveva il gps e invece questo non ha il gps quindi per tanto tempo è rimasto utilizzato abbiamo anche il microfono ma utilizzerò il mio l'unica differenza che il jack è leggermente più piccolo in quello che avevo quindi io comprerò un adattatore oppure farò una modifica altri adattatori in questo caso abbiamo anche l'adattatore per poter utilizzare i comandi al volante quindi alla fine due di questi adattatori e sono dei convertitori di linea quindi io non li uso allora e adesso guardiamo quindi direttamente alcune riprese che ho fatto per poterlo montare come vedete è tutto smontato era smontato già tempo fa quando vi ho fatto vedere la recensione della piccola aspirapolvere della della lidl che non andava assolutamente bene quindi guardiamo come ho fatto i collegamenti e quindi guardiamo come vedete è tutto e allora adesso guardiamo quindi l'interno come vedete questo quindi è il fissaggio come avete visto preparare con la smerigliatrice in modo che si adattasse perfettamente e qua c'è tutto il cablaggio semplicissimo quindi basta semplicemente inserire questi due spinotti una volta collegato lo stereo già sarà pronto per accendersi poi dobbiamo collegare nella parte centrale altri spinotti è impossibile sbagliare perché la forma è una per ogni spinotto quindi si inseriscono tutti nel posto corretto guardiamo anche il collegamento della retrocamera semplicissimo questo va inserito nel cavetto giallo corrisponde all'ingresso della retrocamera e quello rosso invece va collegato alla 12 volt quindi basta prenderlo semplicemente per esempio dal cavetto giallo si fa il collegamento con un ruba corrente o comunque vedete voi come fare e potremo alimentare quindi la nostra retrocamera che però si accenderà solo ed esclusivamente se la colleghiamo nel telaio della nostra macchina o come in questo caso utilizzando un neutro che ho preso direttamente dal collegamento e poi il cavetto rosa va collegato e allora mettiamo la retrocamera da questa parte poggiata così così vi faccio vedere anche il collegamento allora come vedete collegata alla retrocamera ci sono altri due spinotti il giallo sempre per il segnale video e rosso che serve a portare l'alimentazione però guardate da questa parte fu riescono altri due cavi uno rosa ed uno nero quello nero è quello che vediamo da questa parte quindi collegato al neutro ma che va collegato comunque al telaio eventualmente perché va messo nella parte posteriore io sto facendo tutto qua perché ho tutta portata di mano per farvi vedere il funzionamento e questo cavetto rosa invece va collegato alla luce della retromarcia quando inseriamo la retromarcia si accende la luce e segnalazione del nostro canale posteriore e quindi automaticamente alimenterà la nostra retrocamera quindi si accenderà in automatico adesso faremo un paio di prove facendo dei collegamenti volanti in modo da farlo accendere perché dato che non posso spostare la macchina ovviamente non posso farvela vedere in funzione ma comunque ci renderemo lo stesso conto quindi rimetto tutto al posto collego anche l'antenna che nel mio caso un cavo cortissimo e rimetto a posto e vi faccio vedere lo stereo da acceso e allora ragazzi siccome non riesco a farlo diversamente perché devo collegarlo appunto con un collegamento volante vi faccio vedere come si accende alla retrocamera simulando il contatto con l'accensione insomma del panale posteriore basta unirlo a positivo se mi riesce ok e in questo caso si accende alla nostra retrocamera vediamo se lascio il filo comunque una volta staccato si spegne automaticamente quindi dovrei riuscire è difficile ok ce l'ho fatta vi faccio vedere anche come si vede allora ovviamente andrebbe messa sotto sopra comunque abbiamo anche la possibilità di regolare alcune impostazioni quindi possiamo regolare sia il contrasto la luminosità possiamo regolare i colori in modo a gestire tutto per poter utilizzarla nel migliore dei modi simuliamo di togliere la retromarcia quindi in questo caso si spengono le luci delle che segnalano la retromarcia e si ritorna alla schermata principale ora qua avevamo ecco l'impostazione per la retromarcia quindi ci dà la linea in modo da poter avere un riferimento quando facciamo retromarcia adesso mettiamo quindi lo stereo come se fosse diciamo montato sempre provvisorio perché è un impianto che ancora devo completare e lo solo dovrei fare con tutto montato ma non potevo farvi vedere in questo caso vari collegamenti quindi lo poggio semplicemente e vi faccio vedere il resto delle funzioni allora ragazzi però non vi ho fatto vedere innanzitutto questo è il collegamento per il gps quindi va semplicemente avvitato e si può utilizzare qualunque antenna perché è standard quindi come se nel mio caso avete già tutto montato allora non c'è bisogno di fare alcun tipo di lavoro poi ovviamente abbiamo anche i cavetti le antenne per il wifi per il bluetooth eccetera questo come vi dicevo è l'ingresso per poter utilizzare il microfono esterno dato che tutto volante inserisco il microfono lo lascio volante e poi mi occuperò di fare le varie modifiche avendo smontato e rimontato tutto ho fatto la ricerca automatica delle stazioni come vedete sta memorizzando tutte le varie stazioni che trova e mi indica pure se si tratta di stazioni con news se sono in stereo oppure in mono eccetera tutto ciò che riguarda le varie stazioni che trova anche se non le sta riproducendo ok andiamo avanti questo è il volume speriamo che youtube non mi censuri nulla ok vi ho fatto sentire solamente questa parte ragazzi si sente davvero fortissimo e in modo molto limpido allora questa quindi è la funzione della radio inizialmente quando l'accenderete troverete anziché la schermata radio troverete la schermata canzoni però per utilizzarlo ovviamente va sfruttato il cavetto usb che viene dato in dotazione ne abbiamo 21 per poter ricaricare il telefono l'altro invece come questo caso external storage quindi la possibilità di avere di collegare un pennino insomma tutto ciò che ci permette di archiviare della musica io poi intenzione di fare da questa parte ok da questa parte voglio fare una modifica e far fuori uscire il cavo per potere sia alimentare il telefonino che poter ascoltare eventualmente la musica e allora risistemiamo l'esposizione altrimenti non si capisce nulla ok e vi faccio vedere tutte le varie funzioni allora il gps ancora non l'ho utilizzato perché non avevo montato l'antennino quindi non l'avevo collegato ovviamente era già montato dal come dicevo dalla precedente autoradio e qua abbiamo quindi la nostra schermata della navigazione allora proviamo a fare una ricerca e scrivere roma vediamo andiamo a roma sembra che io sia offline certo devo scaricare le mappe quindi devo connetterlo allora vi faccio vedere anche questa funzione bisogna andare nelle impostazioni esattamente come si farebbe con uno smartphone quindi cerchiamo una rete wifi troverà il mio telefonino e quindi mi collego alla rete wifi del mio telefono ok iphone di riccardo inserisco la password e mi connetto perfetto velocissimo se già connesso a questo punto andiamo direttamente alla schermata della navigazione ok e come vedete dal villaggio mosè mi conduce direttamente a roma il tempo di calcolare il percorso dimostra pure le immagini quindi esattamente come farebbe un computer un telefono un tablet android alla fine abbiamo un tablet che ci permette di utilizzare lo stereo e sfruttare diverse funzioni come abbiamo visto anche a retrocamera eccetera allora ragazzi oggi la connessione fa un po schifo sono col 4g solo tre tacche quindi non è velocissimo però come vedete riusciamo ad utilizzarlo quindi a sfruttare la navigazione e in questo caso stiamo vedendo roma quindi qua c'è il colosseo perfetto quindi funziona anche per quanto riguarda il gps proviamo anche a navigare alziamo anche il volume come vedete anche durante la navigazione si può utilizzare la radio però stacchiamola quindi semplicemente andiamo nella radio in questo modo facciamo così spegniamo tutto quello che non ci interessa e ritorniamo da questa parte quindi facciamo avvia va bene ok perfetto e abbiamo quindi il nostro navigatore pronto ad accompagnarci durante il nostro viaggio e quindi a guidarci con la voce con tutte le indicazioni che possiamo avere da un navigatore satellitare adesso togliamo anche questo vi faccio vedere pure che è possibile eventualmente avere una sorta di piccoli 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 quindi un piccolo riquadro della navigazione anche mentre stiamo utilizzando il nostro display per altre funzioni quindi chiudiamolo completamente e vi faccio vedere pure la possibilità di configurare eventualmente i comandi al volante io in realtà non ho i comandi al volante o questo piccolo aggeggino della sony cantava bene con il primo col secondo stereo non andava bene con quello palio di 388 oggi e voglio provare poi in futuro a configurarlo con questo comunque basta accedere su questo comando e poi ci dice di premere il tasto corrispondente del nostro volante in base alle varie funzioni in modo da poterlo utilizzare e quindi salvare il tutto per utilizzare comandi del volante anche con questo stereo poi ovviamente non vi faccio vedere tutte le varie funzioni per esempio delle gallerie fotografiche eccetera sono cose standard di tutti i sistemi android però abbiamo la possibilità di navigare anche su internet e possiamo scrivere per esempio riccardo muscarella e vedere i risultati è un peccato che oggi la connessione faccia così schifo 4g solitamente al 5g e va molto velocemente questa volta invece che sto facendo questo video va malissimo allora quindi appare un elenco di video realizzate il mio canale youtube è qualcosa pure riguardante il mio studio di tatuaggi eccetera quindi proviamo ad aprire un video vediamo apre direttamente youtube e allora ragazzi sono andato direttamente nel mio canale di youtube come vedete in questo caso avendo messo il telefonino là davanti dovrebbe essere leggermente più veloce almeno speriamo quindi guardiamo un video quali video vediamo l'ultimo video quello delle forbici di potatura vediamo come si vede dovremmo vederlo sia con lo schermo normale quindi che prende una parte del display oppure possiamo vederlo a schermo intero come facciamo con i normali tablet quindi in questo caso però abbiamo una risoluzione molto bassa anche in questo caso come sui tablet si può regolare la qualità addirittura 240 mettiamo 1080p con questa connessione impiegheremo dieci anni per avere la qualità corretta però come vedete non dipende dal dispositivo ma possiamo anche vedere eventualmente il piccio rimpiccio da questa parte quindi ridotto e continuare eventualmente la nostra navigazione vi ricordo però che dovete utilizzare questi dispositivi con questa funzione solo ed esclusivamente quando siete fermi quindi in un parcheggio mentre siete in sosta per i fatti vostri non durante la guida premo play e vediamo anche l'audio ok qua sono solamente dei rumori delle forbici di potatura vediamo quando arriveremo al momento della voce ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube ok ovviamente l'audio dipende anche dalla qualità del della registrazione e dal microfono che stavo utilizzando però come avete visto si può utilizzare anche youtube abbiamo la possibilità di gestire anche la musica tramite il bluetooth abbiamo diverse funzioni questo è il comando per la retrocamera approfittiamo del fatto che ci sia poca luce e vi faccio vedere pure come questa retrocamera riesce a riprendere bene pure in una giornata poco luminosa ovviamente in quel caso ci sarà molto rumore guardate allora inquadriamo qua in basso guardate è buio però riusciamo comunque a vedere tra il disordine eccetera riusciamo lo stesso di inquadrare non è chissà che cosa però riusciamo comunque ad avere una visione ovviamente grandangolare quindi vi ricordo che la retrocamera non va montata in questo modo ma va montata in questo modo quindi ok adesso vi vedete bene è sovraesposto come inquadratura mamma mia mostruoso va bene e quindi riusciamo a vedere comunque quello che la retrocamera sta riprendendo ovviamente di giorno oppure dove la luminosità favorevole allora riusciamo a vedere molto meglio quindi per poter uscire ovviamente si preme la casetta qua che indica la home dell'impianto e basta cosa da farvi vedere abbiamo tutte le varie funzioni abbiamo anche la radio dub che però andrebbe configurata quindi ancora non l'ho utilizzata vediamo se si connette vediamo cosa ci fa a fare questa radio dub io non ho mai utilizzato una radio dub comunque per quanto riguarda l'interfaccia davvero molto bella mi piace come è studiata la grafica tutta la qualità la definizione del video molto molto belli però sembra che non vada bene chiudiamo tutto ritorniamo nelle applicazioni abbiamo anche l'equalizzatore che ci permette di impostare tutto in base ai nostri gusti quindi abbiamo la possibilità di interagire e di regolare un pochettino il tutto tutte le varie correzioni in base alle casse possiamo gestire tutto e bassi eccetera eccetera va bene quindi torniamo nella schermata principale abbiamo la possibilità pure di gestire i file ragazzi è esattamente un tablet all'interno della nostra macchina che ci permette come abbiamo visto di navigare di soffrire della retrocamera di avere un'ottima qualità audio ma anche di vedere i video utilizzarlo come un dispositivo che arricchisce il nostro cruscotto come ho detto poco fa prendendo la nostra macchina più moderna e soprattutto più utile con strumenti che ci aiutano pure nella guida perché la navigazione effettivamente grazie a questo a toto 6 e l'ascolto della musica sicuramente saranno più piacevoli ora colleghiamo il nostro telefonino a fare una telefonata quindi a toto già si è connesso perfetto quindi proviamo a fare una telefonata allora proviamo a chiamare il 119 vediamo come si sente benvenuto nel servizio clienti team ti ricordiamo che la chiamata è gratuita e chiami da linea mobile ok quindi come audio della telefonata ovviamente essendo collegato alle casse della macchina si sente in base all'impianto che avremo più la qualità dell'impianto sarà elevata più il suono sarà limpido insomma è pulito però come avete visto si sente bene poi abbiamo anche tramite bluetooth la possibilità di riprodurre musica eccetera quindi a questo punto io ritengo come dispositivo sia molto ricco e volevo farvi vedere pure che nel caso in cui accendete le luci automaticamente si abbasserà anche la luminosità del display in modo da non infastidirci ma se vogliamo possiamo comunque intervenire premendo su questa icona con il sole per decidere di abbassare oppure alzare ulteriormente la luminosità dello stesso ovviamente durante il giorno con i fari accesi non sarà necessario avere illuminazione nella parte bassa ma accendendo i fari quindi quando c'è buio oltre a ridursi la luminosità del display si accenderanno questi tastini sulla parte bassa che ci aiutano ovviamente a comandare il tutto di giorno invece c'è la luce del sole comunque la luce che arriva dall'esterno e non sono necessari devo vedere però se dalle impostazioni è possibile impostare una luminosità fissa poi ovviamente è anche possibile regolare in base ai nostri gusti il marchio quindi il messaggio di benvenuto nel senso che quando noi accendiamo il nostro stereo abbiamo la possibilità anche di impostare il logo di avvio e ovviamente ho una kia quindi metterò quello della kia ok diamo anche un'occhiata alle caratteristiche tecniche quindi informazioni sul dispositivo il nome del prodotto quindi a toto a 6 performance versione android 10 poi abbiamo anche le informazioni sulla cpu è un octa core da 1,6 giga e abbiamo 32 giga di spazio ovviamente archiviazione come abbiamo detto poco fa ampliabile tramite un pennino con hard disk esterno e allora ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto effettivamente non è stato semplicissimo fare una recensione di uno stereo per la macchina non c'è granché da dire si fanno vedere le varie funzioni secondo me questo di funzioni ne ha tantissime effettivamente è bello funziona bene l'audio mi piace come avete visto si connette subito sia per quanto riguarda il gps il volume e la qualità dell'audio sono buoni anche la ricerca delle stazioni automatiche la funzione di retrocamera insomma tantissime funzioni che mi piacciono tanto quindi ho sostituito finalmente quello stereo che non mi piaceva mi sono divertito a fare queste piccole modifiche da poterle adattare alla mia automobile vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione se vi piace se siete intenzionati a cambiare stereo stavate cercando quello adatto date un'occhiata a questo prodotto vedete se vi soddisfa ed eventualmente acquistatelo sperando anche di ricevere un codice di sconto in modo da farvelo pagare molto di meno detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi il mio canale mettere mi piace e qua giù cliccando sul pollice nell'insù vi ricordo che attivando le notifiche quindi cliccando sulla campanella verrete aggiornati su tutti i miei prossimi caricamenti a questo punto non mi rimane che ringraziarvi di nuovo di aver visto il video fino in fondo darvi appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto